Allora, se non c'è Martin Garrix, o Martin Garrix, o Hardwell, o Skrillex a fare il DJ, io non entro, ok? Non ne sono sicuro, ma credo che questo non sia Skrillex. Giorno! Guarda come mi guarda con l'occhiolino. Ascolta zio, devo entrare. C'è Skrillex per cortesia? Dov'è il DJ? Eccolo lì. Ciao, sei tu Martin Garrix. Che cazzo fai così? Che la musica fa cagare. Senti zio, tra l'altro non stai premendo niente, vada solo. C'hai la console che va da sola, cioè non stai facendo niente. Non è per essere razzisti, è per carità di Dio. Però non mi ricordavo che Martin Garrix fosse nero, o Skrillex. Niente, lui deve fare così. Vabbè, su le mani ragazzi, su le mani! Su le mani, guarda come è preso bene. Bravo zio, muovi questa anca che domani muori. Questo è John Travolta. C'è un coltello, questo nasconde un coltello qua sotto, spiegami perché. Giorno, non mi alitare in faccia, grazie. Questo è il tipico boss mafioso che fima. Non fuma, fima. Che fima. Ah, c'è il pieno di sopra, attenzione. Sto analizzando il locale prima di partire con gli schiaffi perché sennò è stato... Ma sei lo chef Tony che vende i coltelli. No, 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 scusa, non volevo farti incazzare. Merda, merda, merda! Sopra le teste! Questi si picchiano. È scoppiata la rissa ragazzi, è scoppiata la rissa. Barman, dammi un Jack Daniels. Dammi un Jack Daniels. Va bene anche questo che è vuoto. Ok, va, mi sono cagato in mano, quello non c'ha più la guancia. Senti zio, eh non mi difende, sei un barista del cazzo. Questa è la grappa di mio nonno. Prendi la... Ecco, vedi che fa male l'alcol. Sempre detto io. Senti, Robin Hood, fammi capire. C'è dal tipo che aveva il coltello che è sparito. Ed è sparito giustamente anche il coltello. Però io ho un posacenere. Bastardo. Ecco infatti, vedi il posacenere cosa... In grado di fare. Ma guarda una spada. Ma guarda una spada, che cazzo sei? In uiascia, sto cercando se tieni della droga. C'è anche il cesso. Non avevo visto che c'era il cesso. E vabbè, no, 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 zio, dovrei... No! Eh, ma è basso il soffitto. Eh, vabbè. Era basso il soffitto, non riusciva a saltarmi in testa. Pazienza. Va buono ragazzi, abbiamo capito com'è il locale. Ora so cosa fare. Posso entrare al cesso per vedere cosa succede? Il bello ragazzi è che la gente si nasconde mentre fuma. Non devono farsi vedere che fumano. Posso prendere questa cosa? Ti incazzi? Qualcosa mi dice che è un locale per fumatori ragazzi. Come dice lo zio Favi, non si fuma perché il fumo fa male. Quindi ti do una badirata in testa per farti capire. Ecco, di sicuro stai meglio. Come ho fatto a staccarti un braccio con una mazza da baseball? Non lo so. E vabbè, eh vabbè. Eh sì, sono svenuti. Via, veloci. Non capisco un cazzo. Ok, non ho ancora capito perché io devo lanciare piatti alla... Ma il DJ continua a far... Bravo zio, continua a far... Vai, vai, vai. Vai con Remix che tanto la gente si picchia. Io ti fotto le luci. Eh no, non posso. Vabbè, ti fotto la console. Ti fotto la mamma. Cosa ti fotto? Tra tutti quelli che si menano ragazzi c'è uno che è lui che si fa beatamente i cazzi suoi. Ma se lo picchio, si muove? Posso usare questa cosa? Ti si è incazzato zio? No, te lo chiedo eh. Si incazza, sì sì. Oh, ho trovato il coltello. Dentro l'occhio. E invece no. È morto, è morto. Quindi adesso posso prenderlo scettro. Preso. Eh la madonna con il simbolo dei dollari. Sono un... Questo non c'è il braccio, devi morire. Porca Eva, ma che cazzo è? Allora, madonna. Smolecolo la gente, che cazzo è? È così forte da smolecolare le persone. Micchia! Hai il pettine, c'hai il pettine incastrato in testa. T'ho preso il... Perché? Devo usare lo Shockwave? Faccio un disastro ragazzi, uso lo Shockwave, ve lo dico eh. Vabbè, proviamoci. Shockwave! Boom! Micchia, ho fatto un devasto. Oh, questo è un pezzo decente. Bravo zio. Forse non ti ucciderò. Ancora... Non ti caga nessuno, basta fare così. A parte sto tizio che ti ha fottuto la cassa. Micchia, ragà, non c'era sto casino neanche in casa mia quando portavo un 4. Senti zio, mi fai un favore. Metti questa musica seria, maledizione. Resta, play, stai, no, mano. Oddio. È volato. Eh, vabbè. No, ma, no, ma, yeh. No, ma, no, ma, no, ma. Che cazzo di ricordo. La metti una roba un po' più seria? Mi chiamo Virgo. Bravo. Ma, perfetto. Questa sì che è seria. Ma questo c'è ancora la bottiglia nell'occhio. Shockwave. Oh, mica, anni. Boom! Siete morti? No, perché se no non ce la posso più fare. Sa che il Shockwave ragazzi non serve a una mazza, a parte buttarli a terra. Ho trovato una mazza. Parlando di mazze ho trovato una mazza. Entrate, forza. Uno. Due. Questo è morto già di suo. Tre. Quattro. Oddio. Quattro. Cinque. No. Buona, raga, impossibile. Sono vivo. Ma dove? Come ho fatto a salvarmi? Non lo so. Raga, mi manca pochissimo e sono morto. E ve lo dico. Eh, vabbè. Da dove spuntano? Che cazzo è giovanotti? L'ombelico del mondo. Qua devo fare una provata, raga. Devo saltare sopra tutti. Oh, vabbè. In teoria se ammazzo questi ho vinto. Il problema è che sono troppo forti perché c'è il tipo con la spada. Oh, nine remaining. Nove. La mazza. Da dove è spuntata? Boom. Mora è grande. Eh, vabbè. Devi crepare, zio. Uh, berserk. No, vabbè. Raga, devo provarci. Berserk. No, cos'era? Adesso. Adesso. Bravo. Ancora uno. Bravissimo. Ci siamo. Stronza di merda. Vieni qua. Vieni qua. Sì. Oddio. Mica, l'ha tirato il pugno l'altro. E non crepa, oh. Oh, è morto. Non ci credo. Ce l'ho fatta, raga. Ce l'ho fatta. Devo prendergli la spada. Se li prendo la spada ho vinto perché con la spada ce la faccio. Raga, devo solo prendere la spada al tizio. C'ho la tensione a mille. La mira. La mira della madonna. Eh, vabbè. Stavo scherzando. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oddio, non è morto. Ne mancano tre. Ne mancano due. Dove cazzo sono gli altri due? È il DJ? L'ho ucciso. E che cazzo è che mette Giovannotti? Non l'ho ucciso io il DJ. Cosa volete? Uno. Boo. Sì. Ho vinto, non ci credo. Mezz'ora perché minchia faccio io, faccio io. Ragazzi, sulle mani. Tutti giù, binai. Un piatto incastrato. Cioè, raga, ho fatto un casino. A un certo punto credevo di perdere assolutamente perché... Cos'è sta roba? Eeeh, vabbè. Spiegami che come... Come facevo a sapere che c'erano queste armi qua su. Sì, è stato bello, ragazzi. È stato bello. Discoteca del cazzo perché... Perché gli alcolici costano troppo. Quindi ho fatto un po' di casino. Scusate. È stato bello. Benissimo, ragazzuoli. È stato... Strano, però... Vabbè. Ma qua c'è la prigione che ho già fatto. Gli ho fatti tutti, ragazzi. Tranne... Sandbox test level. Cos'è? C'è ancora questo, in teoria, ragazzi. Però non credo sia un livello, ma... More coming soon. Vabbè. Sembra Minecraft. Eeeh, vabbè. Le armi. Seriamente? Perché ancora non le avete messe? Spiegatemelo. Ah, è il tizio di prima. Vediamo quanto... In quanto... In quanti colpi moriva. Mica, è fortissimo. Sarebbe morto subito col fucile. Mica, è fortissimo. Boom. Cosa? Come è possibile? No, vabbè. Un non morto. Sperare, se avessi continuato a camminare, anche così, mi sarei sorpreso, eh, credi. Vieni zio, vieni zio, vieni zio, vieni zio. Passa zio, passa zio. È la madonna. Oh mio Dio, voglio fare una cosa. Fermi. Fermi, ho deciso. Ho deciso, ho deciso, ho deciso. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh! Oh, che trick! L'ho ucciso, sul serio. 360, non scopo, eh, vabbè. Ma come? Ma zio, no, non volevo... Aspetta. Ti scastro io. Perfetto. Sei morto... Dignitosamente. Seriamente? Guarda! Ma che figo! Guarda che bordello! Oddio. Oh, la strage, la strage. Beh, fermi un attimo. Madonna! E che cosa siete voi, Hulk? Ancora, infierite pure. Bastardi. Ma buono ragazzi! Era solo per vedere, però è una figata. Voglio vedere se riesco a mettere armi e robe decenti nei prossimi livelli. No, perché sarà una figata. Va buona ragazzuoli! Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e un mi piace. Anche la pagina di Facebook, come nei video, la trovate nella descrizione. Sono seguiti di scato e ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi! È un pene, ho trovato un... Porca puttana! Porca puttana! Cos'è successo? Calmo zio, devi star calmo subito.